Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Reans Siccome vedo che me lo chiedete sempre nei commenti Io vi ricordo che in descrizione ci sta l'EP del server In questo server qui potete entrare tutti, basta usare la 1.17.1 Sicuramente compatibile con Java, per il resto provate perché non ve lo so dire Ve lo dico perché in molte amiche non lo so questo è il server dei sub No raga, può entrare veramente chiunque Ma ora parliamo di cose serie Siamo all'Aterem come sempre, iniziamo sempre qui più o meno Nella città iniziale, è notte e dobbiamo fare una cosa segretissima Nell'ultimo episodio vi ho dato uno spoilerino di una cosa che forse avrei fatto E ovviamente c'è chi ha capito tutto Avevo già qualcosa come circa 1.600 gemme giù di lì e ne ho prese altre 2.000 Ragazzotti, è arrivato il momento di shoppare il vipozzo Facciamolo di notte in segreto, nessuno ci deve chiamare shoppini, nessuno ci deve vedere Allora, cosa molto importante, tutti i vip hanno un kit Infatti facendo slash kit in chat possiamo vedere tutti quanti i kit Che poi hanno dei simbolini diversi ma poco cambia Cioè effettivamente sono tutti i kit differenti E l'unico che potete prendere tutti quanti gratis è quello settimanale Che cliccando col destro così posso farvi vedere cosa contiene Sì vabbè, un po' d'oro, un po' di pane e queste casse da aprire Ma non ci ho mai trovato nulla interessante dentro Però è gratis, perché non prenderlo Comunque andiamo prima di tutto a vedere quanto costano i vip E che permessi ci danno Perché da questo villager appunto guardiamo solo e soltanto i permessi Allora abbiamo il primo Tra l'altro non so se ci avete fatto caso ma sono effettivamente i numeri romani Quindi questo è l'1, questo è il 5 Beh, tecnicamente sì lo so, c'è il 2 e il 3 di mezzo Però non ho voluto farlo così Questo è il 10, questo il 20 Non lo so, io dopo il 10 ma che cavolo ne so Comunque guardiamo, il primo ci dà il comando workbench Devo dire abbastanza utile come comando Perché così non devo piazzare ogni volta la workbench Mi torna molto comodo e soprattutto non avendo la crafting nell'inventario Mi libero uno spazio, come vedete ne ho sempre 3 Sicuramente è una cosa comoda Costo 900 gemme Allora, io mi ero fatto 1600-1700 gemme dalla vecchia modalità Quindi tecnicamente un comandino gratis per me sarebbe Passando al secondo abbiamo accesso al comando at Quindi cappello, una cosa estetica Probabilmente prenderò un oggetto in mano Metto questo comando e me lo metto in testa Uno slot extra per i cavalli Ora puoi catturare fino a 6 cavalli Beh, io ne ho 3 Quindi volendo avevo ancora spazio Non vedo una grande necessità di uno slot extra Però magari andando avanti nel gioco Questa possibilità qui parebbe essere interessante Anche perché sì, è vero che ci sono i cavalli Magari c'è quello che salta tanto Quello che è molto veloce Però ci sono anche i muli Che possono trasportare gli oggetti E quindi effettivamente lo slot extra potrebbe essere molto molto buono Ovviamente ogni VIP ha accesso a tutti i vantaggi del VIP precedente E questo qua costa 2.900 Io ragazzi sincero sincero miravo a questo Anche perché poi sono troppo povero per permettermi quelli dietro Però comunque diamogli un'occhiata Quello dopo appunto ci dà il comando Niar Nel raggio di 50 blocchi Ci dice se ci sono nemici Anzi ci indica proprio penso i player più vicini a me Molto molto interessante 50 blocchi non è tantissimo Ma è anche giusto così Non deve essere troppo P come comando E poi un altro slot extra per i cavalli Passiamo al rank L 11.000 gemme Ragazzi io ho la roba qua del rank L Perché è stata regalata da uno di voi Quindi il kit sicuramente è molto molto buono Ma vediamo anche permessi Accesso al comando EC Che sta per Enderchest Ragazzi non sapete quante volte vado in caverna Mi scordo tipo le shulker box nell'Enderchest E dico cavolo sono fregato Ma chi torna più indietro È questo un pensierino in futuro Però in futuro ce lo potrei anche fare Accesso al comando Anvil Molto carino anche questo Questo forse è il più utile di tutti Le rank L È veramente tanta tanta roba E poi cavallo con particelle Vabbè estetica ci sta Passiamo al C Che io sto dicendo le lettere Per non dire il numero Perché boh penso C potrebbe essere 100 Io che cavolo ne so ragazzi Accesso al comando Disguise Ragazzi il comando Disguise Ma no ma anche questo mi piace un casino Quanto sono? 19.000 gemme Ehi il comando Disguise ragazzi È tanta roba Perché potrei anche fare le lezzatine Trolline pure qua Il Disguise praticamente è quello Che utilizzavo io per trollarvi Nel fazioni Per capirci 3 slot cavalli Per un totale di 10 Tanta tanta roba E ovviamente Essendo un rank superiore all'L Tutti i picconi Le spade sono più forti Il D Accesso sempre al comando Disguise Altri 5 slot cavalli Quindi rispetto a quello precedente Sono 5 slot cavalli extra Poi ovviamente sempre armatura Tutto quanto Più potente E poi l'ultimo lemme Accesso al mondo Arcanum Mamma mia Io pensavo fosse anche Per quelli precedenti Invece soltanto quello Ultra iper costoso Da 50.000 gemme Ragazzi Questo qui È una roba pazzesca L'Arcanum Per chi non lo sapesse È quella dimensione Dedicata ai boss Ma se non mi è stato spiegato male Chi ha questo VIP Ha una specie di tunnel Interdimensionale In cui praticamente Non deve per forza Tornare allo spawn Ma può usare Una specie di tunnel strano In cui può anche fare una casa Insomma Non lo so Dovete informarvi bene Ma effettivamente Questa roba qui Sembra veramente una figata Costa un occhio della testa Ma per chi se lo può permettere Tanta roba Quindi Considerando che ho soltanto Queste gemme E che in qualsiasi momento Posso fare l'upgrade Semplicemente pagando la differenza Direi ragazzi Che ufficialmente Ci prendiamo Questo VIP Lezzissimo Gemme scalate Vediamo appunto Quanto costerebbe Passare a quello nuovo 6.900 gemme No Ho sbagliato a cliccare Perché giustamente Devo andare in upgrade E non in quello Ovviamente l'upgrade Posso farlo soltanto Verso questo qua E costa 4.000 gemme Ok giustissimo E sinceramente Un pensierino Ce lo potrei anche fare Non tanto per lo slot cavalli Un pochettino per il near Ma è ancora quello dopo Che mi interessa tantissimo Veramente tanta tanta roba Detto questo Siamo qui Facciamo un bellissimo Slash kit Ora che ci possiamo Permettere questo qua E ragazzi Ok un po' di soldini E giustamente Il kitino lezzino Rispetto al mio piccone Giusto per dare un'occhiata Efficiency 1 Ambelking 1 Est 1 Ambelking 3 Est 1 Sì beh C'ha degli incantamenti Un po' peggio Però tecnicamente Questo qui Andandolo anche a mischiare Con un altro piccone Viene una roba Veramente veramente bella Anche perché Ci sono ragazzi Degli incantamenti Veramente Veramente OP Allora Prendo il mio cavallino E intanto Andiamo in banca A depositare questi soldoni Eccoci arrivati Quindi Invece di usare questa crafting Proviamo proprio Il comando Ragazzotti Workbench Andiamo qui A mettere l'oro Giustamente per craftare i blocchi Per venderlo più facilmente Che poi in verità Ho fatto una cazzata Perché Non so se ve l'ho mai detto Ma se clicco col destro Vendo direttamente lo stack Quindi ci avrei messo Meno click Ragazzi Perché sono così pirla? Così ci vogliono 35 click Per vendere questi In questo mod Invece ne sono 95 Perché faccio così Ah Che bello Che bello Abbiamo 5000 monetozze Come sempre Ragazzotti Facciamo un bel T deposit E ragazzi Depositiamo 5000 Tutti quanti Per migliorare la città Ovviamente A proposito della città Piccola informazione Riguardo Alla tratta commerciale Attualmente Non c'è ancora stato modo Di farla Perché purtroppo È questione di orari E vedo anche che Vengo seguito Con altri 7000 Donati alla banca Perfetto Però comunque Tutto bene Sono stati leggermente Rivisti i prezzi Un pochino rialzati Giustissimo Perché quelli che avevano il posto Erano veramente Stra stra bassi Quindi ho accettato Senza problemi E vi mostro Le migliori Che sono state apportate Quindi teaspoon E torniamo a casetta Ok Eccoci qua Allora Piccoli aggiornamenti Che sta facendo? C'è un party qua sotto? Gli saranno I pesci palla? No non li voglio io Ma che cavolo? Ma non si mangiano Ma non si mangiano Perché? Vabbè Lasciamo stare Vi informo un pochettino Su quello che Prossimamente ci da fare Nell'ultimo episodio Ci siamo lasciati qua Che appunto Questo qui era Il chunk spawner Come avevo detto Mentre da questa altra parte Abbiamo dato casa A Chione E guardate un pochettino È sotto il primo Completamente a finirla Sì va bella Giù c'è Rainy Che ha fatto quel megadrago Però veramente Veramente un bel lavoro Purtroppo mancano Cora le finestre I nemici possono entrare Quindi Chione Attento veramente Ma la casa Molto molto carina Vedo che sono stati messi Anche dei lampioni In stile con la città Non male Non male Prossimamente Da qualche parte Verrà fatta una caserma Per ovviamente Le guerre Cos'è la caserma? In questo momento Ogni cittadino Ha il suo plot città Tra l'altro Abbiamo liberato Due plot lì Quindi forse a breve Riusciremo a prendere Due nuovi cittadini Comunque durante le guerre Non possiamo garantire Una casa a tutti quanti Ma abbiamo bisogno Di tante 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 persone Nella città Quindi probabilmente Io spero di non andare Mai in guerra Comunque andremo a costruire Una caserma Con tantissimi posti letto Tantissime chest private Per ognuno di Di quelli che appunto Vorranno partecipare alla guerra E ragazzi Scateneremo l'inferno Ma fino a quel giorno La caserma E le guerre Non sono assolutamente Una priorità Detto questo Non so se avete notato Ma ho fatto Io tutto il contorno Della città Guardate un pochettino Che carino In questo modo Siamo ultra ultra Protetti dall'esterno Perché uno Se si trova in questo punto Non ha modo Di risalire il confine Perché appunto Non è più frastagliato Che basta andare lì E salire E sale Quindi deve fare Per forza il giro Ci saranno due entrate Una è il porto Laggiù da qualche parte E l'altra Sarà un'entrata generica Verso quella direzione lì Questo perché? Perché all'entrata Ci sarà scritto Che per i visitatori Che ovviamente La mia città È pacifica Chiunque può Entrare in città I visitatori Saranno costretti A entrare in città Senza armatura in diamante Se uno entra Con l'armatura in diamante Sarà considerato Ostile E quindi potenzialmente Bersagliabile Questi qui sono i chunk In cui andrò a costruire Io La mia casa Villetta È tutto Come vedete Sono ben protetti Dall'esterno E questo qua sotto Non è il magazzino Di casa mia Ma il magazzino Della città Qua dentro ci vanno stoccati Tutti quanti i materiali Della città Che voi volendo Potreste chiedere Per il resto La casa non c'è E ci sta un po' Così Come viene Da quest'altra parte Invece vi do soltanto Un'occhiatina C'ho il mio pezzo Di città privato Come vedete Da qua si può accedere Dall'esterno Però uno che accede In questo punto Non può fare più nulla Perché poi Non può salire In casa mia Non può salire di qua Perché c'è il muro Comunque che continua di qua Dall'altra parte C'è idem il muro Quindi alla fine Niente da fare Qua ho creato Anche una mini piazzetta Da questa parte qui Si va verso lo spawn Da quest'altra parte Allo shop E da quest'altra parte Ancora Non so ovviamente Cosa fare In questo plot qui Che ancora non è claimato Ma insomma Vedremo in futuro Cosa metterci Come già detto Qua il murettino In roccia durissima Oh cavolo Sono caduto Continua Meno male che Ero veramente al bordo E quindi qui posso Risalire facilmente E appunto Qua non ho continuato Il muretto Perché come leggete In questo cartello qui Sarà il futuro porto Sì ragazzi Qua vorrei mettere un porto Un posto dove far attaccare Le barche Perché se effettivamente Uno arriva via mare Non posso pretendere Che faccia un giro assurdo Per poi entrare da laggiù No deve essere anche comodo E questo qui è un punto Abbastanza comodo Ecco Anche perché l'aterem Ovvero la città iniziale Sta in quella direzione Là tutto dritto Quindi sicuramente È un punto strategico Sarebbe stato carino Anche farlo direttamente Qui accanto a casa mia Qua che non sapevo cosa farci Però boh ragazzi Cioè non mi ispira Molto farlo qua Sinceramente Lo vedo molto distaccato Da tutta la città Poi sembra quasi Un porto privato Insomma evitiamo Lo metto di là E siamo tutti contenti Comunque vedo Che mi è scritto XGamer Che è quello Che doveva rifornirmi Di pozioni Vediamo se ha qualche Novità per noi E allora Il mio sindaco Ha venduto La città Oddio In che senso E quello nuovo È un novellino E quindi Che problema c'è Non mi piace il sindaco Mi sembra uno sproveduto Ma no Povero Beh chiediamogli Riguardo alle pozioni Effettivamente Se è tutto saltato O no Perché ragazzi Se la città è stata venduta Lui non fa più parte Della città Mi sa che l'accordo È completamente saltato Peccato Sì ho tutte le pozioni Tranne sette Ah quindi ce le ha Va bene Va bene Va bene Va bene Allora Allora si può fare Come cosa Si può fare Ti faccio pagare 3300 Va benissimo Chiediamo Dove possiamo Andare a ritirarle Non è un problema Tanto col cavallo Posso viaggiare Per 3000 km Comunque ora che non sono più In una città Le pozioni posso sempre farle Va bene Sì in effetti Uno può produrre pozioni Anche in proprio Non serve per forza Un collegamento con la città Mi ha detto che se lo invitiamo Viene lui da noi Allora Le regole della città Sono regole E valgono per tutti Se uno ha accordi Da fare con noi Ben venga Però non è che possiamo Invitarlo nella città Solo perché ci sono Accordi da fare Quindi sarei predisposto Per non andare direttamente Io contro il regolamento Della mia stessa città Ma di andare Verso di lui A cavallo E vediamo un attimo Che succede Allora Mi ha dato un appuntamento Al ponte nord Della città Il fatto è che siamo A 3800 blocchi Quindi signori C'è una bella strada Da fare Ma abbiamo Un visitatore qui Lo avvisiamo Che in città Sarebbe meglio Non avere armature in diamante Intanto Ah ok Sarei elevata Sarei elevata Perfetto Cosa mi dà? Ah Ci ha portato Degli alcolici E anche di semini generici Molto molto gentili Le avevamo già Alcune cose Ma Ragazzi ma ci sta buttando E la madonna Ma 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 ci ha portato Licchezze proprio Cos'è questo libro? Acqua Affinity Molto interessante Acqua Affinity Dai lo ripaghiamo Vieni un attimo con me Ti diamo un po' d'oro Il re è molto 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 gentile Vabbè Non sono tantissimi blocchi Effettivamente Quindi ci poteva Non ci poteva anche stare Forse c'è anche perso Però alla fine Il suo era un dono Quindi ci sta Ah Stai guardando il nostro shop Tra l'altro mi avete detto Che qua Le cose sono venute A prezzo altissimo Ne sono consapevole Ragazzotti Ne sono consapevole Diciamo pure Torna pure Quando vuoi Sempre Benvenuto Assolutamente Si è fatto tutta questa L'assurda Per darci dei regali Che carino Posiamo tutte le cose Vabbè Comunque ragazzi Seriamente È arrivato l'omento Mi rifaccio tutta la strada Andiamo a nord E cerchiamo di concludere Questo scambio Allora Gamer ci ha detto Che si trova in banca Noi mancano soltanto 200 blocchi Appunto siamo appena arrivati All'Aterem Quindi ci siamo quasi Eccoci sulla terraferma Prima però Di andare da lui Dovrei forse Forse comprare Del nove shulker Perché non penso Proprio mi c'entri tutto Nell'inventario Beh In qualsiasi caso Devo comunque andare alla banca Allora Abbiamo qui Xgamer Chiediamogli prima di tutto Quanti slot servono Perché se no mi bastano Ragazzi è un po' un casino Due shulker Eh La mia Della roba dentro Cavolo Eh si gliel'ho scritto Dovrei proprio comprarne una Ah ok Era proprio dentro l'angolo Perfetto Di che colore le prendo Ma quasi quasi le prendo Tutte celesti Tanto raga Ah eh Ok ho fatto ciano Non è un problema Quindi se non sbaglio Dovevamo dargli 3300 Potremmo arrotondare A 3500 euro Che arrotondati Sono 388 8 periodico Lingotti Che a loro volta Sono 48 6 blocchi Ovviamente La calcolatrice Mi è stata Molto di aiuto Allora 48 blocchi Dovrebbero bastare Chiediamo conferma Per 48 blocchi D'oro Ok E possiamo andare Perfetto Magari col cavallo Sarebbe meglio Oh finalmente Me l'ha fatto prendere Prima non ci riuscivo Allora dobbiamo andare Ragazzi purtroppo In zona pvp E la cosa è un po' rischiosa Perché c'è Chi parrebbe fare L'infamata E killare l'altro Ovviamente Questa qui È una palese Dichiarazione di guerra Sia in un caso Che nell'altro Io non sarei più Città pacifica E lui sarebbe Un traditore Di lezzolandia Quindi speriamo Che faccia il bravo Aspettiamolo Che c'ha il cavallo Un po' più lento Del mio Eccolo Sta arrivando Poso per terra Le shulker Riempimele pure Tutte quante Bellissimo E poi ovviamente Ci sarà il pagamento Perché le rompe? Ah mi dà le sue Controlliamo la merce Di ottima qualità Qua c'è della roba extra Non so se sono precisamente Tutte quelle che ho ordinato Ma vabbè ragazzi Poco importa Diamogli il suo oro Riprendiamoci il cavallo E torniamo in città Però posso dire Una cosa stupida Cioè Io pensavo Mi devesse riempire Le mie shulker Potevamo usare il trade Volendo Per una cosa del genere E effettivamente Non avrei potuto vedere Tutto il contenuto Delle chest Non rimane che tornare in città E depositare la mercanzia Ok Eccoci qua Sono stato tra l'altro Un po' a impirla Perché qui ho una chest Delle cose da vendere E effettivamente Ragazzi Non me ne sono portate dietro Vabbè Nel dubbio Metto qua dentro Le shulker nuove E in futuro Vedremo di smistare tutto L'importante E posizionarli Nella mia chest Privatissima Detto questo ragazzi Per oggi Ho decisamente Fatto abbastanza Ci si vede Alle 19 in live Come sempre Quindi mi raccomando Non mancate E quindi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti